Musica Violenza al Santo Bono, infermiera aggredita, l'operatrice sanitaria, è stata picchiata e minacciata di morte dalla mamma di un bambino. I sanitari hanno visitato il piccolo scortati dalla polizia, nessuno tocchi ipocrate denuncia, anche l'ospedale pediatrico è diventato presidio di frontiera. Sisma in Molise, paura e scuole chiuse nel Sannio, protezione civile di Benevento in preallerta dopo la forte scossa di magnitudo 4.6 in Molise. Il terremoto è stato percepito fino a Napoli e Salerno, uno sciame che dura da qualche giorno, gli esperti non escludono ulteriori scosse. Seconda faida di Scampia, incastrato il boss di Lauro, c'è anche Vincenzo di Lauro, nome in codice F2, figlio di Paolo, detto Ciruzzo Milionario, tra i 16 arrestati nell'operazione che colpisce i clan di Secondigliano. In carcere, mandanti ed esecutori materiali di 8 omicidi. Bengalese sgozzato, svolta nelle indagini, l'immigrato venne trovato senza vita lo scorso 19 marzo nella periferia di Salerno, arrestato un connazionale accusato di averlo ucciso, ad incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere della zona e giallo sul movente. Omicidio Gioia, scontro sulle perizie in aula, si avvicina il giorno della sentenza per il delitto di Avellino, prevista per il 24 maggio. Si discute sulla capacità di intendere e volere dei due ex fidanzati che sono accusati di aver ucciso Aldo Gioia nell'abitazione al corso. A Irola, dopo l'evasione e bufera sul carcere, servono interventi urgenti, così il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari, che oggi ha fatto tappa nella struttura della Valle Caudina, teatro dell'evasione di due detenuti. Per l'esponente di governo, tappa anche a Nisida. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con la cronaca, andiamo all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove un'infermiera è stata aggredita e minacciata di morte dalla mamma di un bambino. Nuovo episodio di violenza, la donna è stata denunciata. Intanto nessuno tocchi ipocrate, dice anche l'ospedale pediatrico è diventato presidio di frontiera. Pretendeva che i medici visitassero subito il figlio, nonostante fosse classificato in codice verde, per poi aggredire e minacciare di morte una infermiera. Ennesimo episodio di violenza negli ospedali campani, questa volta al Santo Bono. Protagonista dell'aggressione è una donna che è stata denunciata, mentre il piccolo è stato visitato dai sanitari scortati dalla polizia. Come racconta 8 Channel, il presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, Manuel Ruggero. Ormai il Santo Bono è un vero e proprio ospedale di trincea, come il vecchio Pellegrini. Quindi nel fatto di specie la mamma di un piccolo paziente è nata alla vera e propria aggressione, con minacce di morte e minacce dell'aggressione. Fortunatamente è stata immediatamente chiamata la polizia e il piccolo è stato poi visitato addirittura in presenza della polizia e la signora è stata denunciata per minacce. Nel frattempo dal governo è arrivato l'ok al provvedimento che prevede un inasprimento delle pene per chi si rende responsabile di aggressioni al personale medico e sanitario. Finalmente quello che noi chiediamo da 2017 è la procedibilità di ufficio nei confronti degli aggressori. Quindi chiunque credisce un medico o un'infermiere nell'esercizio delle sue funzioni ci sarà la procedibilità di ufficio. Quindi saremo considerati a tutti gli effetti, al di là della prognosi che soppiamo, pubblico ufficiale. E adesso parliamo del terremoto della scorsa notte 4.6 nel Molise. Scossa avvertita anche tra Sagno, Casertano, Salernitano e proprio nelle prime due province. Sono molti i sindaci che hanno chiuso le scuole e chiesto verifiche. È in atto da alcuni giorni lo sciame sismico in cui si inquadra la forte scossa di terremoto registrata pochi minuti prima della mezzanotte in Molise, in provincia di Campobasso. Un sisma di magnitudo 4.6 nell'area della Valle del Biferno con epicentro a Montagano che per fortuna non ha fatto registrare danni ma che è stato avvertito distintamente anche in Campania, fino a Napoli e Salerno e in particolare nell'Alto Casertano e nel Sagno dove diversi sindaci hanno deciso di sospendere le elezioni, scuole chiuse a Casalduni, Morcone, Solopache e Ponte Landolfo. Mentre a Benevento Mastella ha avviato una serie di controlli negli istituti per verificare eventuali danni e criticità. E non si possono escludere nelle prossime ore ulteriori scosse. Al momento notizie tranquillizzanti, la scossa per fortuna non ha provocato i danni, è molto profonda per cui danni in superficie non ce ne sono. Non serve niente in questo momento, siamo in una situazione di preallerta, in caso visto la vicinanza potrebbe essere necessario intervento. E poi plaude l'approvazione di questa mattina in Consiglio Comunale del piano di emergenza che entra in vigore in caso di criticità. In virtù di questi eventi non si può improvvisare, per cui le procedure, tutto quello che viene programmato e pensato prima, poi attuato, ci consente di salvare vite umane. Avere un piano di protezione civile operativo e tecnico è una cosa importante. Partiremo subito dalle scuole, nei prossimi giorni con i vari presidi per andare proprio a fare divulgazione presso le scuole e presso le vari enti, perché qui tutto può succedere. Arresti e raffica a Secondigliano per otto omicidi che riguardano la seconda faida di Scampia, ricostruiti quelli che sono i nomi dei moventi, degli esecutori materiali ma anche dei mandanti e tra gli arresti eccellenti c'è Vincenzo Di Lauro, F2, il nuovo boss dei Di Lauro, figlio di Ciruzzo o milionario. Vediamo. Seconda faida di Scampia, 16 arresti e la ricostruzione di otto omicidi che insanguinarono Secondigliano negli anni caldi della lotta tra clan e figura anche Vincenzo Di Lauro, reggente dell'omonimo clan, tra gli arrestati. Di Lauro è ritenuto il mandante di uno degli otto omicidi avvenuti durante la seconda faida di Scampia. L'arresto di Vincenzo Di Lauro è avvenuto stamane nella storica casa del clan, in piazza Zanardelli nel cuore del quartiere e a tutti gli effetti un colpo ferale all'organizzazione fondata dal padre, Paolo, soprannominato Ciruzzo o milionario. Secondo gli inquirenti è il figlio più operativo di Paolo Di Lauro, quello con la più grande capacità delinquenziale, identificato con la sigla F2, in quanto secondo figlio del super boss. Le indagini si sono concentrate su otto omicidi e quattro ferimenti collaterali. Reazioni a catena li definiscono gli inquirenti commessi a Secondigliano tra il 2007 e il 2008, nella seconda faida di Scampia. Lo scontro vide contrapposti principalmente i clan di Lauro e Amato Pagano, quest'ultimi soprannominati gli scissionisti. Dei 16 destinatari delle misure cautelari emesse dal GIP di Napoli, gli unici liberi erano proprio Vincenzo Di Lauro e Salvatore Frate, quest'ultimo ritenuto legato al gruppo camorristico della Vinella Grassi, i cosiddetti girati. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano anche i boss Cesare Carmine Pagano, Raffaele Amato, oltre a Marco Di Lauro, nome in codice F4, quarto figlio di Paolo Di Lauro, fratello di Vincenzo, detenuto al 41 bis dopo l'eclatante arresto del 2 marzo del 2019 a Napoli, dopo oltre 15 anni di latitanza. Il patto per Napoli, stiamo rispettando gli obiettivi. Il sindaco Manfredi, a margine del congresso della Will, fa il punto ad un anno dalla firma dell'accordo con il Governo e proprio sulla sfida del PNRR. A un anno dalla firma del patto per Napoli, tutti gli obiettivi che dovevamo raggiungere li stiamo perseguendo, stiamo rispettando perfettamente il cronoprogramma. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'Assemblea Nazionale della Will Tux, che si è svolta alla mostra d'oltremare, alla quale hanno preso parte oltre mille delegati sindacali provenienti da tutta Italia. In questa occasione, con il segretario generale della Will Tux, Paolo Andreani, e il segretario generale della Will, Pierpaolo Bombardieri, sono state lanciate una serie di proposte, in particolare sui nuovi contratti di lavoro. Ma si è parlato anche della grande sfida del PNRR, alla luce dell'allarme lanciato dal ministro Fitto, secondo il quale alcuni progetti non si potranno ma realizzare entro il 2026. Timore che non coglie impreparato il sindaco di Napoli. Finalmente abbiamo un po' di agibilità finanziaria, dopo aver ereditato un deficit mostruoso nei settori più importanti per la vita dei cittadini, ha precisato Manfredi. Sul PNRR la fascia tricolore dunque si dice ottimista. La capitale del sud fa fatica a stare al passo, l'aumento dei costi e della mancanza di personale si fanno sentire, ma gli obiettivi si stanno perseguendo e il comune di Napoli sta rispettando i tempi, assicura Manfredi. Nelle stesse ore una task force di magistrati e funzionari della sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti è già all'opera per il monitoraggio di tutti i progetti del PNRR. La Campania è la seconda regione d'Italia per numero di progetti e per numerosi enti locali si tratta di una vera e propria sfida contro il tempo, prima per l'attuazione dei programmi ma anche successivamente per dare alle strutture la capacità di poter funzionare. Arriva Piazza Mercato, la gigantesca chiave di Milo, l'opera resterà per tre mesi nell'ambito del progetto che rilancia l'area, vediamo. Installata oggi a Piazza Mercato a Napoli l'opera dell'artista albanese Alfred Mirashi Milo, una maxiscultura dal nome Key of Today, chiave di oggi, voluta dal sindaco Manfredi nell'ambito della riqualificazione della piazza e che resterà lì per tre mesi. Un'opera che ha illustrato lo stesso artista. Ho scelto Napoli grazie al sindaco Manfredi perché questa piazza è una delle piazze più storiche d'Italia quando sono successe tante cose, anche si può chiamare la piazza rivoluzionaria dell'Italia e anche il messaggio è bello perché noi cerchiamo il dialogo che i popoli vivono in pace tra uno e l'altro. Ed anche il direttore artistico, il sanita Michele Estanzione, ha spiegato il progetto. Dopo tanti anni questo qui è il primo evento e l'abbiamo voluto portare proprio nella vera Napoli, nel cuore di Napoli, dove qui ha anche un messaggio proprio al popolo più vero, più interno. Ma è polemica sull'installazione dell'opera che sarà inaugurata domani mattina. I ragazzini rivendicano lo spazio della piazza per giocare a pallone e minacciano di vandalizzare l'opera con la vigilanza che sarà presumibilmente aumentata. Svolta a Salerno sull'omicidio del cittadino bengalese dello scorso 19 marzo, arrestato un suo connazionale. Vediamo. E' stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona l'assassino del 33enne bengalese Mohamed Choukot, trovato morto su un marciapiede con il collo reciso da un'arma da taglio lo scorso 19 marzo a Capitolo San Matteo, zona periferica di Salerno. La vittima è stata ripresa dagli occhi elettronici in compagnia di un'altra persona, mentre si recavano nel posto dove è stato poi consumato il delitto. Ma il presunto omicida è stato immortalato nuovamente mentre andava via, questa volta però era da solo. Su richiesta della procura di Salerno il GIP ha così disposto l'arresto e il trasferimento in carcere del presunto assassino, un connazionale del 33enne, accusato di essere l'autore dell'omicidio. Come ricostruito dal procuratore Giuseppe Borrelli a supporto dell'attività investigativa condotta dalla polizia di Salerno, decisiva la ricostruzione degli spostamenti dell'indagato. Resta da chiarire però il movente della brutale aggressione culminata poi nel delitto. Il bengalese, prima dell'arresto disposto dal giudice per le indagini preliminari, era stato già interrogato dalla procura. Ancora cronaca, parliamo dell'omicidio Gioia d'Avellino, si avvicina il giorno della sentenza di primo grado prevista per il 24 maggio prossimo. Intanto stamane c'è stata un'udienza di oltre sei ore, importante, in quanto sono stati escussi tutti i consulenti di parte nominati. Conclusioni contrastanti, quelle a cui sono pervenuti i periti di parte, nominati dai difensori degli imputati e dalle parti civili. Concordi nel ritenere entrambi gli imputati capaci di intendere e volere al momento del fatto la professoressa Raffaella Perrella, dello stesso avviso Paolino Cantalupo, nominato dall'avvocato Brigida Cesta, difensore dei fratelli della vittima. Sono entrambi capaci di intendere e volere, nonostante lui presenti, un disturbo di antisocialità e un disturbo psichico borderline, lei una forte immaturità. Conclusioni contrastanti per il professore Pietrantonio Ricci, nominato dall'avvocato Livia Rossi, difensori di Elena Gioia. Per me i due imputati sono incapaci di intendere e volere questo elemento, si evince dall'assenza di una progettualità dopo l'omicidio. E per il carcere minorile di Airola servono interventi urgenti, lo ha detto il sottosegretario della giustizia, Andrea Ostellari, che ha fatto tappa nella struttura. Il carcere minorile di Airola in Mallecaudina presenta evidenti criticità strutturali che hanno anche contribuito all'evasione dei due detenuti che due settimane fa, dopo essersi calati con delle lenzuole d'aperto due cancelli, hanno fatto perdere le loro tracce. Sono ancora ricercati dalle forze dell'ordine, ma ora è tempo di interventi, per la struttura di detenzione per minorenni di Airola. Questo pomeriggio, dopo una tappa all'IPM di Nisida, anche in Mallecaudina, sopra il luogo del senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, e di Antonio Sangermano, capo del Dipartimento della giustizia minorile. Ora serve una radicale ristrutturazione, il monito dell'esponente di governo. Restano prioritari i lavori di ristrutturazione assolutamente fondamentali per evitare quello che è accaduto, perché è frutto anche di una ritardata manutenzione, quantomeno. Sul lato del personale noi come governo ci siamo già impegnati, lo faremo e lo stiamo facendo con nuove assunzioni. Nuovo personale per la Polizia Penitenziaria, arriverà anche del personale adeguato formato per l'educazione. A ricevere il senatore Ostellari e Sangermano è stata la direttrice del carcere di Airola, Marianna Danti. Ora servono soluzioni e fondi, è stato invece il monito del capodipartimento. È una realtà che ha delle criticità, sicuramente, su cui rifletteremo e cercheremo di dargli delle soluzioni e delle risorse importanti. E questo è un dato positivo. Cercheremo di dare risposte alle criticità esistenti. E adesso parliamo di imposte comunali, vediamo come è andata la prova in Consiglio per gli importanti tributi ad Avellino. Il Consiglio Comunale di Avellino è chiamato ad approvare le tariffe per Imo addizionale e Tari. Restano invariati i costi e il Consiglio dice sì alla scelta dell'amministrazione festa di non tenere conto degli aumenti calcolati dalla Società dei Rifiuti Irpini Ambiente. Amministrare una città partendo da un risanamento dei conti economici non è l'aspettativa di chi fa politico o di chi immagina di amministrare. Però noi l'abbiamo fatto con coerenza, sapevamo di affrontare una situazione difficile. Stiamo verificando la possibilità, come dicevo prima, di ridurre le tasse a partire dall'anno prossimo. E mi auguro che l'assessore Cuzzola, così come ha promesso in Consiglio Comunale, mantenga fede alla promessa, ci porta fuori dal prediscesso, così otteniamo una riduzione delle tasse. Ma l'opposizione chiede alla maggioranza maggiore cura e attenzione nei calcoli dei possibili sconti che i cittadini avrebbero potuto avere sull'IRPEF. Bastava solo un'approvazione delibera di Consiglio Comunale per risolvere il problema, che poi si risolveva con la domiciliazione bancaria. Ma si andava quantomeno incontro ai cittadini facendogli risparmiare il 20%. Ormai è una città nestatizzata da qualche festa di piazza che si fa ogni tanto e va tutto bene, quando le cose non sono così. Intanto il Presidente del Consiglio Comunale, Ugo Maggio, si è scusato pubblicamente con la città per le offese e minacce rivolte al consigliere Todisco. Presa la parola, Maggio ha detto, mi scuso nuovamente pubblicamente ma resto e vado avanti per il bene della città. Intanto a Salerno è stato firmato in comune un protocollo d'intesa per la costituzione della Rete dei Musei. Vediamo cos'è. È stato firmato a Salerno il protocollo d'intesa che sancisce la nascita della Rete dei Musei. Al progetto hanno aderito 15 istituti museali del territorio che metteranno in campo strategie ed iniziative congiunte per promuovere il patrimonio salernitano. Cominciavano dalla Rete dei Musei che significa far immaginare un'accessibilità dei musei condivisa con un logo condiviso, una mappa che si presenta oggi anche cartacea, poi avremo un sito. Insomma tutto quello che nel sistema di accessibilità al patrimonio artistico-culturale una città che ha l'ambizione di essere una città pienamente turistica debba avere. In occasione della firma è stata presentata anche la mappa Salerno Musei, primo strumento promozionale che includerà tutte le informazioni necessarie per visitare i vari istituti della città e scoprire le loro collezioni. Noi dobbiamo organizzare queste risorse, le dobbiamo mettere in Rete, le dobbiamo promuovere insieme, valorizzare insieme e dobbiamo fare in modo che l'uno tiri l'altro. I firmatari del protocollo inoltre si impegnano a dotarsi di una struttura organizzativa e a definire un modello di gestione al fine di strutturare una proposta culturale, organica e condivisa. Siccome Salerno ha diverse realtà culturali, artistiche, storiche che meritano di essere conosciute, ci auguriamo che questo essere in Rete possa favorire lo sviluppo di queste realtà. Mette lo smalto sulle unghie contro l'omofobia. Vi raccontiamo nel prossimo servizio l'iniziativa del pizzaiolo casertano Salvatore Leonello. Tra per me è stata una scelta di una protesta proprio contro l'omofobia. E così ha colorato anche le sue unghie come segno di protesta contro ogni atteggiamento discriminatorio. La decisione di Salvatore Leonello dell'omonima pizzeria di Succivo in provincia di Caserta dopo un episodio avvenuto nel suo locale. Come lui stesso ha raccontato anche sui social, tutto sarebbe avvenuto quando girando tra i tavoli del ristorante un commento l'ho invitato a riflettere, poi ad agire. Un tavolo di ragazzi mi chiama e io giustamente vado lì per capire se ci fosse stato un problema o se volevano una foto e loro mi fanno i complimenti con la pizza e scherzosamente uno di quelli dice non fare entrare alcune persone in questa pizzeria e mi facendo a un tavolo. Avevano le unghie colorate spiega di qui la decisione di Leonello di mettere anche lui lo smalto per invitare a riflettere soprattutto i più giovani. La rabbia e poi l'atto di scrivere quel post viene più che altro perché mi è stato riferito da una nuova generazione. Dobbiamo rispettare qualsiasi scelta e allora si deve smettere di avere delle percezioni completamente sbagliate sotto tutti i punti di vista. Poi annuncia presto anche una pizza contro l'omofobia. Stiamo creando una pizza proprio contro l'omofobia. Con tutto il ricavato organizzeremo qualcosa o lo daremo a qualche associazione per far del bene. Colpi di scena, nuove alleanze, tanta competizione. Questa sera alle 21 su 8 Channel la nuova puntata di Prenditi cura di me in reality dedicato al benessere di mente e corpo. Questa sera su 8 Channel andrà in onda la nuova puntata di Prenditi cura di me. Scontri, relazioni, segreti e rivelazioni ma anche tanti colpi di scena attendono i telespettatori in questa nuova puntata del primo reality dedicato al benessere psicofisico che porta in tv per la prima volta la psicoterapia. E si rinsaldano amicizie e sintonie tra i coach organizzati per team e per aree. Massimiliano e Rosalna tracciano un primo rapido bilancio sul percorso affrontato dai concorrenti e anche dai coach. Vorrei chiederti Massimiliano se le cose stanno andando come ti aspettavi pensavi potessero andare meglio o stanno andando peggio? Credo che le cose possano sempre andare meglio quindi è un work in progress Prenditi cura di me. E invece vorrei farti una domanda. Un bilancio tra la prima e la seconda edizione. Ho imparato a conoscerti meglio, ho imparato ad affrontare meglio le situazioni, a gestire le mie ansie e a vivere meglio la presenza di ogni persona che entra in punta di piedi e grazie a Dio resta in punta di piedi. Credo che comunque Prenditi cura di me sia un programma che a prescindere da qualsiasi tipo di considerazione di anche qualcosa ai concorrenti e senza togliere tempo diciamo alle altre trasmissioni televisive della televisione aggiunge. Come sta aggiungendo qualcosa a me e a te e a tutti i nostri coach? E al noi, e al noi che il pronome che stiamo rinforzando grazie a Prenditi cura di me. Sì perché insieme le cose riescono sempre meglio. Ciao, seguiteci. Da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione. Grazie a Michele Urciuolo in regia, buon proseguimento su 8 Channel TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.